Buongiorno, l'informazione di oggi giovedì 18 settembre 2014. Iniziamo con la politica e con le notizie che giungono dalla Regione Calabria e la questione nata rispetto alle nomine sulla sanità. La Presidente della Regione Facente Funzioni, Antonella Stasi, informa una nota dell'ufficio stampa della Giunta regionale a seguito dell'ultima riunione di giunta relativa alle nomine dell'Asp e dell'azienda ospedaliere calabresi, chiarisce quanto segue. È opportuno e doveroso spiegare ai calabresi, anche tecnicamente, i motivi per i quali abbiamo deciso di nominare i commissari nei posti vacanti. Nell'attuale periodo di prorogazio e seguito delle dimissioni del Presidente Scopelliti, la Giunta ed i Dipartimenti regionali hanno uniformato la loro attività a seguito del parere dell'Avvocatura regionale formulato il 17 luglio scorso. In quel parere l'Avvocatura ha evidenziato che le nomine degli organi di vertice appartengono alla categoria degli atti di alta amministrazione, i quali, come tutti gli altri atti di straordinaria amministrazione, possono essere emanati in periodo di prorogazio solamente se urgenti e indifferibili, quindi indispensabili, al fine di assicurare il funzionamento dell'istituzione alla cui direzione gli organi di vertice sono preposti. L'Avvocatura ha rilevato la necessità che fosse assicurata la continuità funzionale dell'attività amministrativa. Per questo l'Avvocatura regionale, prima e la Giunta dopo, hanno condiviso l'opinione espressa dal Dipartimento personale sull'opportunità di sostituire i dirigenti generali dei dipartimenti regionali scaduti nel presente periodo di prorogazio, non con nuovi direttori generali ma con la nomina dei reggenti. Sulla scorta di queste valutazioni, l'esecutivo che ha dovuto registrare lo stato di confusione ormai regnante in tutte le aziende del servizio sanitario calabrese, con un grave rischio per il rispetto al diritto alla salute dei cittadini e con la certezza che il protrarsi di tale situazione generasse ulteriori e sempre maggiori disfunzioni nell'erogazione di un servizio così essenziale, si è ritenuto che non fosse più dilazionabile l'adozione di provvedimenti sulla materia e si è quindi nominato i commissari assicurando la continuità funzionale degli enti, senza inquinare le scelte che dovranno essere effettuate sulla futura amministrazione. La Presidente infine fa presente che per quanto riguarda l'ASP di Cosenza si è proceduto all'integrazione della revoca già fatta dalla Giunta del Direttore Generale Gianfranco Scarpelli con presa d'atto del rinvio a giudizio di quest'ultimo. Vediamo le reazioni del mondo politico alle nomine della Regione Calabria. Il coordinatore reggino del nuovo centrodestra Bilardi si schiera apertamente contro le nomine decise dalla sua compagna di partito Antonella Stasi. Sono profondamente addolorato per la scelta della Giunta regionale facente funzioni di procedere a nomine illegittime nel campo della sanità, nonostante il divieto espresso più volte dai Ministri dell'Economia e della Salute. Lo dico a nome di tutto il nuovo centrodestra calabrese. Lo afferma in una dichiarazione il senatore Giovanni Bilardi, vice coordinatore regionale vicario del nuovo centrodestra. Riterrei inutile e tautologico, aggiunge, chiedere all'esecutivo di annullare tutto in autotutela. Saranno i Ministeri ad agire con tempestività. Ringrazio gli assessori Mancini e Gentile che votando contro e battendosi strenuamente affinché si avviasse una discussione con Roma senza procedere ad alcun atto hanno rappresentato al meglio il sistema valoriale di Forza Italia e Nuovo Centrodestra. Noi non condivideremo mai atti che violino le leggi dello Stato. Nuovo Centrodestra offre agli alleati una piattaforma politica da realizzare subito che preveda discontinuità netta e chiara con metodi che non rispondono alle esigenze della legalità e della volontà popolare di avere amministratori che non si sentano padroni della cosa pubblica. Ancora su questa vicenda, dopo la decisione della Giunta calabrese di procedere con le nomine per la riorganizzazione delle strutture sanitarie territoriali, il Governo annuncia provvedimenti immediati. In seguito alle notizie diffuse dalla stampa dell'avvenuta adozione da parte della Giunta regionale in prorogazio della Regione Calabria della decisione di nominare commissari straordinari delle aziende sanitarie, in palese violazione delle indicazioni fornite dall'Avvocatore dello Stato, dall'organo commissariale e anche per il suo tramite dai Ministeri della Saluta e dell'Economia e delle Finanze, si precisa che i Ministeri hanno dato mandato ai subcommissari per l'attuazione del piano di rientro generale Andrea Pezzi e Dottor Andrea Orbani di acquisire immediatamente la delibera e le delibere in esame. Elezioni regionali, pronta la lista dei candidati del Partito 5 Stelle. I dati non sono ancora ufficiali, si attende infatti la certificazione dello staff nazionale per completare l'elenco definitivo dei candidati 5 Stelle alle prossime regionali, ma il quadro complessivamente è stato definito. A differenza di ciò che sta avvenendo per le comunali regine, dove si continua a ritardare la decisione circa le modalità di selezione dei candidati, gli attivisti calabresi del Movimento 5 Stelle hanno scelto in pochissimi giorni la lista di nomi che li rappresenterà alle elezioni regionali. Il meccanismo di selezione è sempre lo stesso, una consultazione online alla quale hanno potuto accedere solo ed esclusivamente gli iscritti certificati al portale di Beppe Grillo. In totale sono 30 i candidati, suddivisi come previsto dalla nuova legge elettorale legionale in tre collegi. Per completare il quadro dei papabili mancano ancora all'appello un candidato della circoscrizione Nord e quattro del centro. E veniamo alla cronaca. I carabinieri di Reggio Calabria stanno eseguendo un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di sette soggetti indagati per associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. In particolare gli indagati avrebbero importato droga dalla Bolivia. I militari sono impegnati nelle aree di Gioio Saionica, Roccella Ionica, Caulonia Marina, Placanica, Vigevano, Torino e Cesena. In corso anche 15 perquisizioni domiciliari. L'operazione è stata condotta con il supporto del gruppo operativo Calabria e dei cacciatori di Calabria di Vibo Valencia, di unità cinofile e dei comandi arma territorialmente competenti, nonché di un elicottero dell'ottavo elinucleo di Vibo Valencia. L'indagine avviata nel 2012, denominata Ulivo 99, ha permesso di documentare l'esistenza di un sodalizio criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti, operante a livello internazionale lungo l'asse Bolivia, Olanda, Romania, Santià, provincia di Vercelli e Gioio Saionica. Sono stati sequestrati in due distinte occasioni quasi 400 kg di cocaina, nascosti rispettivamente all'interno di assi di parquet, presso il porto in Paraguay e dentro profilati metallici presso lo scalo portuale di Rotterdam in Olanda, in entrambi i casi trasportati dentro dei container. Atterrerà oggi, giovedì 18 settembre, alle ore 18.10 all'aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria il primo aereo della compagnia Welling. Il volo, proveniente da Roma-Fiumicino, sarà operato con un Airbus A320 della capienza di 180 posti. Si tratta di una tratta quotidiana, operativa per tutta la stagione invernale, con un'offerta totale della compagnia di oltre 64 mila posti. L'accordo con Welling fa parte di un bando della Regione Calabria che prevedeva investimenti per circa 18 milioni di Euro finalizzati ad attrarre compagnie aeree e potenziare l'offerta degli aeroporti calabresi. Per la Regione, domani alle 18.10 sarà presente il dirigente generale del Dipartimento Turismo, Pasquale Anastasi. La notizia della cancellazione di alcune stazioni lungo la tratta Reggio Calabria-Taranto arriva come una doccia fredda per i cittadini calabresi. Ardore, Bova Marina, Capospartivento, Caolonia, Ferruzzano, San Lorenzo, Gioiosa Ioni, Carriace, Squillace, Isola Caporizzuto, Roseto Caposculico diventeranno semplici fermate con un solo binario. Ancora una volta in Calabria va in scena il teatro dell'assurdo. In un territorio come quello calabrese, dove i trasporti su rotaie sono carenti quando addirittura non assenti, secondo reti ferroviari italiane non c'è alternativa al chiudere tutto. Sembrerebbe uno scherzo e invece questa è la dura realtà che i calabresi sono costretti ad accettare. Non c'è bisogno di essere esperti del settore né ci vuole un mago per capire che con la chiusura delle stazioni si penalizza sempre di più il trasporto locale e con esso ogni prospettiva per il territorio. I tempi di percorrenza dei treni aumenteranno poiché ci saranno fermate più lunghe nelle stazioni in cui c'è il doppio binario. Una situazione farsesca se si pensa poi che nelle stazioni ferroviarie che verrà cancellata quella di Gioiosa Ionica è stata da poco ammodernata. Ma è così che dirigenti di Rete Ferrovie Italiane e Trenitalia svolgono il loro lavoro? Noi del Movimento 5 Stelle, dal quale arriva questa nota, non permetteremo mai che questo piano venga portato a termine nella complicità di istituzioni sordi e cieche. Non è ancora troppo tardi per invertire la rotta e per dare un futuro a questa regione. I calabresi se lo meritano. Da domani a Branca Leone al via la seconda edizione del Workshop Territoriale Valorizzazione e sviluppo delle risorse nell'area grecanica e l'Ocridea, realizzato dal Proloco di Branca Leone con il patrocinio del Consiglio regionale della Calabria, della provincia di Reggio Calabria e dei comuni di Branca Leone e Staiti. Vediamo il servizio di Silvio Cacciatore. Al via la tre giorni di Workshop Valorizzazione e Sviluppo delle Risorse Territoriali nell'area grecanica e l'Ocridea, che si terrà nei comuni di Branca Leone e Staiti. L'idea del Workshop nasce nel 2013 e parte da un'idea nata e concepita proprio sui social network, dove si sono avviati i presupposti per ricreare un momento di incontro e riflessione sulle potenzialità delle risorse tipiche locali, ma anche risorse paesaggistiche e rurali, talvolta poco conosciute, ma che conservano un grande valore antropologico e storico che porterebbe a sua volta ad essere sfruttato meglio per un rilancio turistico concreto del nostro territorio, dell'area grecanica e l'Ocridea. Il progetto, afferma Carmine Verducci, organizzatore e presidente della Proloco di Branca Leone, mira a coinvolgere i paesi del nostro circondario e dentro terra, visto le continue richieste di collaborazione da parte di altri enti e associazioni della zona della Calabria tutta, ragion per cui riteniamo doveroso, continua Carmine Verducci ed importante, coinvolgere tutti i gruppi escursionistici, nonché gli operatori turistici ed appassionati a questo importante progetto di rivalutazione territoriale che ha come obiettivo condividere l'esperienza tra mandare oralmente e promuoverla sui social network, ormai diventato un motore importante di divulgazione culturale. Ma vediamo il programma, venerdì alle ore 16.30 visita guidata a Staiti, sabato sempre alle 16.30 visita guidata all'incantevole borgo di Branca Leone Superiore. Domenica alle ore 17.30 presso la Biblioteca Comunale Cesare Pavese si terrà l'attesissimo convegno dal titolo Valorizziamo il nostro territorio ripartendo da noi stessi, con diversi relatori e contributi videografici. Presenti le telecamere di Telebova Marina e Telemelito. Da qualche giorno è stata aperta al transito la rotatoria all'incrocio Lazzaro Nord. Orbene dalla disannina della documentazione acquisita presso il Comune di Motta San Giovanni ai sensi del Decreto Legislativo 195 del 2005 e 241 del 1990 relativa al progetto esecutivo del rotatorio ANAS, incrocio Lazzaro Nord e incrocio per Motta San Giovanni risulta che la rotatoria all'incrocio per Lazzaro Nord è difforme al progetto esecutivo per la parte relativa alla immissione e uscita da Lazzaro Centro. Infatti appaiono sostanzialmente diverse le corsie di canalizzazione. Le criticità in ordine alla mobilità veicolare dei residenti in ambito rotatoria, già segnalate con una nota del 30 settembre 2013, invece permangono nonostante le diversità rilevate. Pertanto è stato chiesto al Comune di Motta San Giovanni da trasmissione degli elaborati relativi alla variante di progetto. E veniamo allo Sport Basket, seconda amichevole casalinga per i nero-arancio e seconda vittoria, stavolta infrasettimanale, contro Catanzaro. La gara si svolta al Palamazzetto del Rione Modena davanti a circa un centinaio di spettatori. Dopo la brillante prestazione contro Barcellona, il team del coach Benedetto, complice il Gran Caldo e i carichi di lavoro degli ultimi giorni, parte a rilento per poi chiudere in scioltezza l'incontro sul 75-54. Intanto viene anche ufficializzata la notizia che la Viola Under-19, inizialmente esclusa per motivi brulocratici, parteciperà al prossimo campionato 2014-2015 e sarà allenata da Domenico Bolignano. Un campionato composto da 44 formazioni, il Girone della Viola, quello D, sarà composto da 9 squadre e tra esse ci saranno Scandone Avellino, Juve Caserta, Francavilla, Brindisi, Palestrina, Roma e le due squadre di Latina. L'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione prestata, l'appuntamento con l'informazione ritorna domani alle ore 14 e buon proseguimento di giornata.